Il governo di Addis Abeba del premere Abiy Ahmed ha dato ordine all'esercito federale di lanciare quella che è definita la terza e finale offensiva contro le forze speciali della regione autonoma del Tigre, dove si combatte dall'inizio di novembre. Da giorni carri armati e unità di artiglieria avanzano in territorio tigrino e nonostante gli ostacoli creati dalle forze ribelli si sono attestati alle porte di Macallè, capoluogo regionale. Domenica il premere Ahmed aveva lanciato un ultimatum ai militanti del fronte popolare di liberazione del Tigre, intimandogli di arrendersi entro 72 ore. Mentre i canali della TV nazionale mostrano le truppe in movimento e i droni che, secondo alcune fonti, sarebbero stati forniti dagli Emirati Arabi, il premere Ahmed ha invitato i residenti della zona a prendere tutte le precauzioni necessarie e a restare in casa o comunque lontani da obiettivi militari. Migliaia di civili, tuttavia, si sono già messi in fuga e almeno in 25.000 hanno cercato rifugio oltre la frontiera col Sudan. Nei giorni scorsi preoccupazione per la crisi in atto in Etiopia e allarme per il rischio di una catastrofe umanitaria sono stati espressi dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e anche da Anthony Blinken, segretario di Stato USA della prossima amministrazione Biden.